il virginian era un piroscafo negli anni tra le due guerre faceva la spola tra europa e america con il suo carico di miliardari di emigranti e di gente qualsiasi dicono che sul virginian si esibisse ogni sera un pianista straordinario dalla tecnica strabiliante capace di suonare una musica mai sentita prima meravigliosa dicono che la sua storia fosse pazzesca che fosse nato su quella nave e che da lì non fosse mai sceso dicono che nessuno sapesse il perché novecento di alessandro barrico è il primo testo teatrale dell'autore in forma di monologo da novecento è stato tratto il film la leggenda del pianista sull'oceano di giuseppe tornatore alessandro barrico è nato a torino nel 1958 barrico dice questo del suo libro novecento ho scritto questo testo per un attore e un regista loro ne hanno fatto uno spettacolo che ha debuttato al festival di asti nel luglio del 1994 non so se questo sia sufficiente per dire che ho scritto un testo teatrale a me comunque poco importa mi sembra una bella storia che vale la pena di raccontare e mi piace pensare che qualcuno la leggerà non so se questo sia un passaggio che a tutti